Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi riguardo al crash di Fortnite nella nuova stagione del capitolo 5 stagione 2 ovviamente se uno prova ad aprire Fortnite e crasha senza nessun errore può essere per lo schermo intero quindi in questo caso vi spiego anche come risolvere il problema allo schermo intero se in questo caso è un errore riguardo a GeForce Experience oppure Nvidia App tipo quando apri Fortnite in alto a destra esce la notifica tipo apri la sovrapposizione e poi si blocca la schermata e crasha Fortnite questa cosa mi succede su altri giochi quindi ovviamente io disattivo Nvidia App quindi l'instant replay lo disattivo e apro così Fortnite senza che mi crasha oppure può essere per vari errori direttamente nella cartella di Fortnite game oppure Epic Games quindi andiamo prima a chiudere Epic Games andiamo su esegui per cento app data per cento questo metodo funziona sempre vai su app data local scendi fino a giù fino a trovare così la cartella di Fortnite game cancella la cartella di Fortnite game e se ci sono le cartella di Epic Games cancella la cartella di Epic Games prima di cancellare la cartella dobbiamo rifare l'accesso ad Epic Games quindi noi adesso andremo a cancellare le cache di Epic Games poi quando andremo poi ad avviare Epic Games ci dirà rifai l'accesso al tuo account quindi io cancello quindi io cancello quindi io cancello quindi io cancello Epic Games quindi io cancello Epic Games Launcher svuoto così il cestino una volta fatto chiudo qua vado su servizi scendo fino a giù fino a trovare il servizio di Epic Online Service ci clicco sopra ed eccolo qua tipo di avvio metti automatico stato del servizio che è arrestato e metti avvia una volta fatto fai applica e fai ok chiudi qua andiamo ad avviare così Epic Games Launcher come ho detto dobbiamo rifare l'accesso io faccio l'accesso con Google una volta fatto andiamo direttamente nella libreria di Epic Games vado direttamente su Fortnite vado su gestisci fai la verifica al gioco se non dovesse funzionare puoi sempre reinstallare il gioco e come ho detto all'inizio riguardo al problema dello schermo intero se adesso io vado ad avviare Fortnite quando sta per aprirsi esce così la schermata dovete premere il tasto Alt più invio per metterlo in finestra così facendo si carica in finestra e no in schermo intero tipo quando si sta per avviare io premo Alt più invio per metterlo così in finestra così facendo si carica in finestra senza avere il problema dello schermo intero quando si carica una volta che sei così nel launcher direttamente sul gioco di Fortnite vai direttamente su impostazioni metti schermo e lo metti a schermo intero e fai applica mantieni le modifiche ed eccolo qua quindi per ora non sto avendo problemi di crash ora andiamo direttamente nella sua libreria di Epic Games andiamo su Fortnite tre puntini gestisci vai nella sua cartella andiamo direttamente su Fortnite Games binaries win64 ed eccolo qua scendiamo fino a giù fino a trovare così il Fortnite client win64 mostra attribuzioni probabilità compatibilità questa qua la devi togliere come spunta disabilita ottimizzazione schermo intero e avvia Fortnite sempre come amministratore e mi raccomando non avviare Fortnite sul desktop ma avvialo direttamente nella libreria di Epic Games però prima di farlo quando avvia Epic Games avvialo come amministratore poi entri nella libreria di Epic Games e poi avvi Fortnite esegui questo programma come amministratore modifiche e impostazioni per tutti gli utenti se altri utenti stanno usando il tuo pc e usano così giocano a Fortnite lo fai per tutti gli utenti modifiche e impostazioni di IPA elevati sistema avanzato e fai ok fai applica e fai ok se non dovesse funzionare andiamo su Fortnite Launcher mostra attribuzioni proprietà vai su firme digitali prendiamo questa qua del venerdì 8 marzo l'ultima di Epic Games se la tieni vai su dettagli visualizza il certificato e installa così il certificato utente corrente fai avanti fai fine e installi così importazione completata e fai ok ovviamente tutti e quattro il Fortnite client v64 shipping lo fai su tutti e quattro i programmi torniamo indietro andiamo sempre su esegui quindi scrivi qua esegui % updata % siamo su updata local scendi fino a giù fino a trovare la cartella di Fortnite Game perchè è tornata la cartella perchè abbiamo aperto Fortnite save config windows client game user settings una volta trovata così impostazione di configurazione game user settings se tu cancella la cartella windows client e il crash report client chiudi qua prova ad avviare Fortnite se si avvia oppure se non si avvia tre puntini gestisci verifica il gioco e questi sono i nuovi e vecchi metodi da usare su Fortnite ovviamente per altri problemi fammelo sapere sotto al video scrivimi direttamente nei commenti mi raccomando segnala il tuo problema cercherò di aiutarti a fare un'altra guida in alto a destra ci sono altre guide su Fortnite su come risolvere tanti ma tanti problemi più di 60 tutorial su come risolvere i problemi su Fortnite e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao